Buongiorno, mi sto incamminando tra 5 minuti, sono all'ingresso della RAE. Oggi lavorerò con Riccardo, il vostro amato Ferri, e saremo qua fino alle 19 di questa sera. Ragazzi che freddo che fa Napoli, mamma mia! Oddio! Mi segue il freddo, non c'è niente da fare. Io avevano previsto neve su Napoli, stamattina mi sono svegliata con l'incubo di trovare neve, invece no. Però non c'è neanche sole, ma meno male che lavoro in interni, oggi va? Se penso ai miei colleghi che alcuni di loro gireranno in esterni, mamma mia, poverini! Quanto si patisce ragazzi, quanto si patisce! Bene, io attraverso, allora, a più tardi, io entro. Ciao! Grazie! Grazie! Grazie!